Grazie, Presidente. In Italia ci sono 10 milioni e 48 mila persone che vivono in condizioni di povertà. Oltre 6 milioni sono poveri assoluti, persone quindi che non riescono ad acquistare bene servizi per avere una vita dignitosa. Questi numeri sarebbero sufficienti per capire la situazione drammatica in cui vivono milioni di italiani. Ma non basta. In Italia ci sono 3 milioni e 200 mila disoccupati e di questi 700 mila sono giovani dai 15 ai 24 anni. E sapete cosa ha detto Juncker? Quello che giusto ieri è diventato Presidente della Commissione europea, ha detto che la disoccupazione in Italia è colpa degli italiani. No, cari colleghi. I problemi dei disoccupati italiani, dei cittadini europei, soprattutto dei giovani, nascono qui. Sì, nascono da questa Europa che non va. Nascono dal fallimento del mercato unico e dal fallimento dell'euro. Salari ridotti all'osso, dampi sociali, mancanza di liquidità per le imprese e perdita dei poteri d'acquisto dei salari. Basta con questa Europa delle banche e nemica dei cittadini. Il vostro Presidente Juncker, quello che voi avete votato, ieri ha detto che servono nuovi immigrati. Servono 50 milioni di immigrati perché serve mano d'opera. Serve forza lavoro. Ma Juncker sa che in Europa ci sono 25 milioni di disoccupati? Sa che in Europa un quarto di giovani non trova lavoro? Non servono nuovi immigrati. Il mercato del lavoro è saturo. Non c'è posto per un solo immigrato se non c'è lavoro per i nostri giovani. Dobbiamo aiutare i nostri giovani. Dobbiamo dare speranza e futuro ai nostri giovani. I giovani europei hanno bisogno di un'altra Europa, più efficiente e più giusta.